Ciao a tutti e ben trovati. Tantissimi sono state le presenze alla messa per gli ammalati l'11 febbraio nella cappella dell'ospedale. La fede può essere la luce che illumina il percorso di guarigione che tutti noi siamo chiamati ad affrontare, sia ad essa una guarigione al dello spirito o una più fisica. Con queste parole il Vescovo di Livorno Monsignor Simone Giusti ha ricordato l'importanza della fede in occasione della messa nella chiesa di San Giuseppe dell'ospedale per la giornata mondiale del malato e degli operatori sanitari. Colgo questa occasione anche per ringraziare i tanti operatori impegnati in questo ospedale, ha continuato, che ogni giorno si impegnano per far guarire le persone e rendere meno pesanti le condizioni sopportate dai malati e dalle loro famiglie. Un cuore in pace con se stesso e con Dio diventa una condizione fondamentale per affrontare ogni difficoltà. Ci avviamo verso il tempo della Quaresima, ne abbiamo parlato con il Vescovo. Eccellenza, per le strade stiamo vedendo sempre più sacerdoti in giro, come mai? Perché è il momento delle benedizioni alle famiglie. I sacerdoti vanno, in mesi febbraio, di marzo, da ora qui, fino a Pasqua, a visitare tutte le famiglie della parrocchia. È il momento in cui, da tradizione inveterata, da tantissimo tempo, c'è la benedizione delle famiglie. I sacerdoti fanno una visita pastorale a tutte le famiglie, vanno a incontrare chi è. Le persone che ci sono, soprattutto gli anziani, gli ammalati, gli allettati, coloro che non possono più uscire, quelli che prima venivano in chiesa la domenica e ora purtroppo, a causa dell'età, delle malattie non possono. Una parola di conforto, la comunione, la confessione, se loro non possono andare. E poi l'occasione in cui benedire la casa, benedire la famiglia. Sappiamo e vediamo quanto male scende il mondo, sappiamo dell'agire del demonio e di come crea zizzania in tutte le famiglie, in tutte le case, sofferenze e dolore. Ecco allora che si apre la porta al sacerdote perché venga in casa tua a benedire casa tua, a scacciare ogni male e a portare la presenza di Cristo in casa tua. Infatti poi c'è sempre una preghiera e poi c'è sempre un atto di carità per i più poveri, un aiutare gli altri, vincere il proprio egoismo, i propri attaccamenti per aiutare i più poveri. E infatti poi nella quarta domenica di quaresima in tutte le parrocchie della diocesi faremo la colletta, la raccolta per i più poveri, le menze della carisa, ne abbiamo tre, il centro vestiti, il centro docce, ma mille altre opere a servizio dei più poveri. La quaresima deve essere un tempo in cui apriamo le porte a Cristo e convertiamo i nostri cuori e la benedizione delle famiglie, l'accogliere il Signore e anche sapere accogliere il buon Dio. Aprite le porte. Sabato 29 febbraio alle 9.30 in Vescovado spazio al confronto politico con l'economista professor Stefano Zamagni. Nicola San Giacomo, responsabile diocesano dell'ufficio pastorale sociale, ci spiega di che cosa si tratta. Un incontro per tutti i cattolici interessati alla politica, un incontro con il professor Zamagni. Perché avete scelto proprio lui? Abbiamo scelto Zamagni perché è uno degli intellettuali cattolici che in questo momento sta lavorando di più nel settore della formazione politica. In particolare il professore sostiene che la presenza dei cattolici è importante a livello individuale ma rischia di essere inefficace a livello complessivo. Da qui nasce una sua idea di lanciare un manifesto per una nuova stagione politica di impegno dei cattolici. Chi deve venire a questo incontro? Possono venire tutti coloro che sono interessati a capire cosa si sta muovendo nel mondo cattolico a proposito della nuova stagione politica e tutti coloro che sono impegnati a una formazione in ambito politico che possa consentire poi di essere più efficaci a servizio del bene comune. Perché l'idea di questo incontro quando è nata? L'idea di questo incontro è nata nel corso di una riunione che si è svolta prima di Natale, convocata dal Vescovo e coordinata dalla Pastorale Sociale del Lavoro. In quell'occasione i politici già impegnati come cattolici nelle attuali amministrazioni locali decisero concordemente di rilanciare una formazione dei cattolici in politica. Da qui l'idea di invitare il professor Zamagni che è anche presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Si chiama Centro Pastorale Santa Giulia ed è la nuova casa a disposizione della diocesi. La nostra intervista a Don Matteo Seu. La diocesi ha a disposizione una nuova casa per campi e vacanze sulle Alpi Venete. Don Matteo Seu è il responsabile di questa nuova struttura. Don Matteo, come sarà strutturata la casa e poi soprattutto come sarà possibile prenotarla? La casa è a Canale Dagordo, paese natale di Papa Luciani. Siamo a una quarantina di chilometri da Belluno. Siamo a mille metri, un bel posto, un paese piuttosto grande, ben sviluppato, comprensivo di tutto ciò che serve per un campo scuola. Iniziare dai negozi, supermercati, negozietti per il souvenir e quant'altro. La casa sarà a disposizione in autogestione. Si tratta di 23 camere per un totale di una cinquantina di posti, perché sono camere un paio singole e poi il resto sono da due, da tre o da quattro posti. Verrà data completamente in autogestione, quindi ogni gruppo parrocchiale potrà andare su con il proprio cuoco, con i propri animatori e poi organizzarsi da soli la propria esperienza formativa per i ragazzi oppure anche a disposizione chiaramente per le famiglie. Cosa c'è nei dintorni? Di tutto. Siamo nel cuore delle Dolomiti, perché la Gordino è nel cadore che lì a fianco sono il cuore delle Dolomiti. C'è la possibilità di utilizzarla sia in inverno per sciare, a fianco c'è Falcade con il comprensorio del Civetta, il passo del San Pellegrino, c'è addirittura un bus navetta che parte proprio dalla struttura che porta sulle piste. La possibilità di escursioni è pressoché illimitata. Come si accede, come si può prenotare? Sul sito internet della diocesi o della settimana online c'è tutto, è riportato tutto, anche il numero di telefono per poter prenotare. Uno sportello sempre aperto, un polo che raccoglie attività e realtà sempre più diverse. Sorgenti di carità è ormai un punto di riferimento per il quartiere che dal 2013 accoglie quotidianamente ragazzi, giovani e adulti che hanno bisogno di una spinta per riprendere in mano la propria vita o semplicemente che hanno voglia di mettersi in gioco per il futuro. La Scuola dei Mestieri nasce proprio per questo, per ridare speranza e per aiutare i giovani o chi ha perso un lavoro a scoprire nuove opportunità ed acquisire nuove competenze. Francesco nel video ci presenta i corsi di quest'anno e i progetti per il futuro. Abbiamo oltre il corso di cucina, abbiamo anche quello di panificazione, di elettricista, di ciclofficina, abbiamo il corso di arte in pelle tramite recupero di pellami destinati alla spazzatura e ricostruiamo piccoli oggetti, manufatti. Poi abbiamo anche il corso di informatica e questi sono i nuovi corsi che abbiamo messo a disposizione oltre lo storico di Sartoria che c'è da tanti anni con la signora Cesira che quello non lo pubblicizziamo neanche più, ormai il passaparola fa la sua parte. Abbiamo la possibilità di scrivere più o meno 10 persone per corso e quindi pensando che sono 7 sono più o meno 70, ma non tutti possono essere selezionate le persone che vengono qua e fanno richiesta perché le domande sono superiori. Caritas dà un occhio molto particolare alle persone che sono in una condizione di fragilità, che quindi hanno bisogno di un nuovo slancio, di una nuova integrazione all'interno di alcuni contesti. Alcuni di loro vengono anche solo dalla mensa, oppure ci sono ragazzi che sono giovani e che non hanno trovato la via giusta, quindi è la possibilità di poter capire qual è la propria strada. Quale idea abbiamo per il futuro? Avremo una bella idea di migliorare la nostra ciclofficina, ovvero renderla un posto dove le persone possono venire a riparare la propria bicicletta, dove possono recuperare una bicicletta che tramite un accordo col comune, a cui noi speriamo tantissimo, possiamo ottenere le biciclette che vengono abbandonate per la strada e che vengono recuperate dall'AMPS oppure dai vigili urbani e che adesso sono rifiuti. A noi piacerebbe stabilire un accordo con il comune per poterle riprendere, restaurarle e darle una nuova vita, in un'ottica proprio di riuso, di riciclo, fuori dalla logica del consumismo moderno. Ecco a voi gli appuntamenti della Diocese di Livorno per la prossima settimana. Sabato 15 febbraio alle 9.30 all'incontro del Consiglio Pastorale Affani Economici in Vescovado. Alle 20 l'incontro del Vescovo con l'equip di Pastorale Giovanile. Domenica 16 febbraio alle 11 la Santa Messa ai Sette Santi in occasione della Festa Patronale. Lunedì 17 febbraio alle 21.15 l'incontro con l'Ufficio Famiglia per il nuovo percorso dei fidanzati in Vescovado. Giovedì 20 febbraio alle 18.30 la Santa Messa per Don Giussani alla Chiesa di Nostra Signora del Rosario. Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio il Vescovo sarà a Bari in occasione del convegno internazionale sulla pace nel Mediterraneo con il Santo Padre. Con gli appuntamenti della Diocesi è tutto, grazie per essere stati con noi anche questa volta. E mi raccomando non vi perdete l'appuntamento con Sifa Sera Parliamone in diretta su Granducato TV il prossimo martedì alle 19.30. L'ospite della puntata sarà il Vescovo.